Il prossimo 28 novembre, alla vigilia della prima Domenica di Avvento, terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Monsignore Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Monsignor Antoine Cambanda, archivesco di Kigali, Ruanda. Monsignor Wilton Gregory, archivescovo di Washington. E subito aggiunge... Grazie. 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 Grazie.